22 febbraio 2022, messaggio di Nostra Signora Regina della Pace. Cari figli, il mio Signore vi ama e vi aspetta a braccia aperte. Non permettete che le cose del mondo vi allontaminano da mio Figlio Gesù? Vivete nel tempo dei dolori e solamente con la forza della preghiera potete sopportare il peso delle prove che verranno. Gesù è il vostro grande amico. Lui non è lontano da voi. Riempitevi di speranza. Il domani sarà migliore per i giusti. Io sono la vostra madre e la mia presenza e il mio amore sono il grande segno di Dio per voi. Datemi le vostre mani. Io voglio condurvi per il cammino della vittoria. Giorni verranno in cui molti si pentiranno della vita vissuta senza Dio, ma sarà tardi. Ritornate a Colui che è il vostro unico e vero Salvatore. Piegate le vostre ginocchia in preghiera per la Chiesa. Camminate per un futuro di grande oscurità spirituale. I ministri di Dio saranno divisi e il dolore sarà grande per i fedeli. Soffro per quello che viene per voi. Avanti nella difesa della verità. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. Grazie. 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 Grazie.